Ho fatto in modo di non avere il piano B, ho fatto in modo, è molto importante non avere il piano B se uno crede, se uno è ambizioso su una cosa peraltro difficile come quella che faccio. Ciao, benvenuti ad un nuovo episodio di Sotto la punta dell'iceberg, il podcast sulla gavetta dei grandi personaggi. L'ospite di oggi è Guido Catalano, poeta professionista vivente, come ama definirsi, autore di 13 libri, l'ultimo, Smettere di fumare baciando, ed è prendemente in tour con i suoi readings. Abbiamo parlato della sua gavetta, dell'ispirazione, di cosa significhi fare il poeta nel 2023 e molto altro. Buon ascolto. Guido ti ringrazio tantissimo per la disponibilità e ringrazio anche il gentilissimo personale di Comala che ci ospita oggi qui a Torino, come stai? Molto bene, molto bene, ho anche preso il sole ultimamente, sono stato in Sardegna, si vede che sono abbronciato? Sì, anche con questo riflesso un po' si vede, te lo volevo chiedere prima infatti, ma... E vacanza? Sì, tre giorni di vacanza vicino a Cagliari, molto bello, a maggio consigliatissimo, perché non c'è casino, si può fare il bagno, figurati. Le famose vacanze intelligenti? Le vacanze intelligenti. E sei stato in vacanza, presumo, per scrollarti di tosto lo stress, insomma, che chiamarlo, del tour che hai appena fatto? Lo stress del tour, della prima parte del tour e anche lo stress del salone del libro che è stato pochi giorni fa, è stato molto faticoso anche perché ha piovuto anche qui in Piemonte tantissimo. E quindi il salone del libro più pioggia, più pioggia battente diventa faticoso, ma è stato un salone fichissimo. Più pesante della prima parte del tour, il salone? Beh, è durato meno, è durato due, quattro, cinque giorni. No, il tour è stato molto divertente in realtà, neanche troppo stressante, anche perché, insomma, è stato anche organizzato bene. Mi sono fatto veramente tutta l'Italia, isole comprese. Ma in realtà non mi stressa il tour, cioè, anzi, mi dà energia, mi dà energia girare, fare gli spettacoli, reading, molta energia positiva. Tra l'altro hai fatto due date all'estero, giusto? Bruxelles e Barcellona. Ho fatto Bruxelles e Barcellona, incredibilmente. Questo è stato un anno strano dal punto di vista dell'estero, perché io lavorando con l'italiano, peraltro non sapendo le lingue straniere, ho difficoltà con l'estero. E comunque, appunto, scrivo in italiano e non sono mai stato tradotto fino adesso. Quindi è stato molto bello andare sia a Bruxelles sia a Barcellona e qualche mese fa addiettura a Toronto. Sei stato? A Toronto, cioè Canada. È la prima volta che uscivo dall'Europa, capito? Per un buon motivo. Per un buon motivo. Mi ha invitato all'Istituto di Cultura Italiano e quando ho letto la mail non ci credevo. Ho letto Toronto, ho detto no, ci sarà un errore. Invece era Canada. C'è Toronto in provincia di... Esatto, esatto. E invece sono stato a Toronto, questo, vabbè, sei, sette mesi fa. E poi sono andato anche a New York perché Toronto e New York sono abbastanza vicini e quindi ho preso un aereo interno e sono andato a New York. È stato molto fico perché io New York l'avevo solo vista nei film. Aspetta, ma sei stato come... No, lì di vacanza, lì di vacanza, ci siamo poi con la fidanzata, siamo andati, mi ha accompagnato la fidanzata anche a Toronto, io da solo non ci sarei andato, ti giuro. Perché sono un po' esterofobico da questo, perché non so le lingue e quindi capisci, è trovarsi a Toronto. Toronto sono un po' di francese, quindi sai, lì un po' di francese lo sanno, ma non solo inglese e quindi anche a New York sarebbe stata durissima. Però tutto bene, no? Benissimo, benissimo, molto fico. Quindi, wow, quindi data di Toronto forse non l'ho vista, no? No, perché era mesi fa, non c'entrava con il tour, invece Barcellona e Bruxelles era dentro il tour, diciamo, per fare i fighi e dire faccio anche il tour europeo come fanno i musicisti. Eh, però per fare i fighi, ok, però per andarti ci deve essere comunque poi un riscontro... E questo è il bello, il bello è il riscontro, perché come sappiamo gli italiani sono dappertutto e anche tanti, a Bruxelles sono tantissimi, a Barcellona sono tantissimi, quindi poi alla fine viene il pubblico, viene un pubblico per lo più italiano, quindi di italiani all'estero. Però la cosa bella è che, tipo in Spagna, anche degli spagnoli che amano l'italiano e quindi magari lo studiano e quindi sono venuti anche dei catalani italofoli. Guido, cognome, nome, è giusto. E fa anche ridere questa cosa, a un certo punto ho chiamato un taxi, anzi l'ho fatto chiamare da una persona e voleva sapere il nome mio, il tassista, insomma, e quando ho detto Guido Catalano c'è stato un momento di... Sì, sì, di comicità catalana, insomma. Bello, bello. Eh no, ma perché sai, uno si immagina all'estero, quando si parla di stranieri che imparano l'italiano, non so, i punti di riferimento, quelli classici, molto classici, però in realtà allo straniero che impara l'italiano piace cose contemporanee, cose che girano, no? E io ricordo sempre, conobbi questa comunità di georgiani che vivono in Georgia, Georgia, il paese del Cauca, sono negli Stati Uniti, e parlavano un po' italiano e mi parlavano di fantozzi, cioè non mi parlavano di cose più, non so, classiche. Dicevano, no, no, perché noi vogliamo... E una ragazza mi fece un riferimento, stavamo a cielo, mi fece un riferimento di una scenetta di fantozzi, e io rimasti colpito, ma come fai a conoscerla? E faccio, perché studio italiano e quindi studio italiano come cultura generale italiana, non solo come... Sì, sì, sì. Non Dante, non per forza Dante. Sta cosa mi ha colpito, però in effetti c'ha senso, è bello. Poi un'altra cosa che mi appassiona sono i reading di poesie, perché non li avevo mai frequentati e non li avevo... non avevo neanche ben capito l'atmosfera che ci potesse essere. Poi l'ho scoperto dopo leggendo un libro di Bukowski, Shakespeare non l'ha mai fatto, che è questo resoconto di lui che va in Europa, fa questo viaggio in Europa e fa questi reading in Europa. E da lì sono riuscito a capire cosa fosse in reading vero e proprio, anche lì un po' forse io naif dall'esterno, immaginavo, sai, la cosa molto classica, molto... Noiosa. Seriosa, sì, noiosa, seriosa. Esistono anche quelli, però... Nel mondo della poesia ci sono ad esempio i poetry slam, ma non so se tu hai mai sentito parlare del poetry slam, che è una cosa ormai da vent'anni in Italia. E figurati che... poi fanno dei campionati all'interno delle varie nazioni e poi ci sono anche le finali europee, mondiali. Figurati che gli ultimi tre anni hanno vinto gli italiani, il poetry slam. Quindi vuol dire che c'è una scuola di poetry slam molto interessante, molto potente in Italia. Quello però è il poetry slam, quindi, ok, sono delle gare finte in realtà, con il pubblico... Non sono finte, però è il pubblico che vota i poeti. È un gioco, chiaramente. E stanno andando molto bene, molto bene. Riempiono le sale, capito? La poesia che riempie le sale. Poi ci sono i reading, nel mio caso io faccio reading da solo con dei musicisti. E la cosa bella è che anche lì c'è voglia anche di poesia di questo genere, insomma, un po' spettacolarizzata forse, però funzionano moltissimo. E anch'io, anch'io, quando da giovane leggevo Bukowski, e lo continuo a leggere in realtà, mi ricordo queste scene. Lui tra l'altro non amava tantissimo, da quello che dice non amava fare i reading, ma lo faceva per soldi. Però era affascinato da questa cosa. Lui apprendeva nelle università, spesso in America, non solo nei locali, e c'era questi racconti bellissimi di lui, vabbè, ubriaco, che anche io all'inizio bevevo per la tensione. Poi ho capito che se bevi troppo poi, insomma, ti senti figo, ma alla fine il risultato finale non è buonissimo. No, infatti è più che altro, è quell'energia quasi, a me non piace usare l'energia, queste parole, però in realtà c'è quell'atmosfera che si crea. Se funziona, si. Si funziona? Se funziona, si crea un rapporto tra il pubblico e il poeta, in questo caso, molto molto interessante, molto potente, entusiasmante, quasi sensuale, oserei dire. Ma questo credo che succeda a tutti quelli che stanno sul palco, anche a un musicista, anche a un attore. Nel senso, quando il rapporto col pubblico funziona, è una delle esperienze più appaganti, secondo me, che un essere umano possa provare. Eh, perché poi pensavo anche, appunto, alle poesie sul palco, perché, non so, con la musica, certo, c'è quel trasporto, però c'è talmente tanto, c'è, il volume è alto, ok? Sì. Quindi, non c'è, non lo so, almeno personalmente, non la vivo come esperienza di gruppo, anche se sei in un gruppo, no? Sì. Con il cinema, chiaramente, luci basse, devi stare zitto, è totalmente diverso. Il teatro, quello classico, ha un'impostazione più classica, come sicuramente forse i reading di un altro tipo di poesie, però con quello che fai tu è diverso, cioè mi sembra, non so, una tradizione orale in cui c'è il racconta storie, il rapsodo, e poi, appunto, la gente che sta lì ad ascoltare. Io sono anche avvantaggiato dal fattore, diciamo, ironia e comicità, questo mi ha molto aiutato, io, anche se non mi considero un comico, però ogni tanto le cose che scrivo fanno ridere, e questa cosa qua crea un rapporto super diretto, cioè, voglio dire, se tu fai qualcosa di drammatico, magari per un'ora e la gente che ti guarda si emoziona, ma sta lì, sta zitta, teoricamente sta zitta. Invece, il fatto di usare la comicità fa sì che poi, appunto, si crei un ping-pong, la risata, l'applauso. Questa è una fortuna che non ho cercato a tavolino, ma è arrivata così, naturalmente. Non hai cercato nel senso che le cose più divertenti, diciamo, gli elementi più comici, cioè, li hai messi... Vengono naturalmente, cioè, io non penso, quando ho iniziato a fare questa cosa, è venuta fuori una vena, diciamo, comica, che io non sapevo neanche di avere, in realtà. Peraltro, non lo faccio quasi mai apposta, di dire, adesso scrivo questo verso, racconto questa situazione che fa ridere. E quindi, abbastanza naturale, e questo in realtà è una forza, perché, probabilmente, la gente si rende conto che non sono cose scritte a tavolino, anche se io uso un tavolino per scrivere, perché non riesco a farlo. Sono scritte a tavolino. Non riesco a farlo, sì, però hai capito. E quindi, sì, l'ironia, la comicità, l'autoironia, aiuta, nel mio caso, molto. Eh, no, poi, non so, è chiaro, ognuno ha un suo tipo di comicità, però a me il tuo tipo di comicità fa... Fa scassare. Fa ridere, sì, cioè, ti cito solo una delle tue tantissime cose, quando dici, che per chiarità, forse te l'avranno ricitata mille altre volte, di Venezia, Venezia è bella e ci vivrei. Sì. E a me è una cosa del genere, per me è una genialità che non ha, non può essere superata, no? Quindi, quindi capisco... No, non me l'avranno mai citata, questo. No. Ok, ah, ok, dai, almeno c'è... Ah, bravo. Sì. E invece, ma come età, quale riesci a capire, capire più o meno l'età media della gente che ti viene a vedere? Sì, perché amo molto le statistiche, quindi già i social, no? Ti fanno vedere molte statistiche, se vuoi sapere chi ti segue e chi non ti segue. E più o meno chi mi segue sui social è più o meno la stessa gente come tipologia che viene agli spettacoli, quindi un 85% donne, 80% donne, età 25-35-40. Ok. Sì. Poi ti posso anche dire le città dove funziono meglio, cioè, nel senso, io sono molto forte, vabbè, chiaramente a Torino che è la mia città, Milano molto bene, Roma e Bologna abbastanza bene, molto bene in Romagna, in Emilia Romagna, in Romagna proprio, molto bene in Romagna, molto bene in Abruzzo, molto bene in Abruzzo. Ho dei fan abruzzesi molto... Calorosi, forti. Intensi, calorosi, sì. C'è qualche motivo, cioè, te lo sei spiegato perché... No, no, beh, io so che a me piace molto il Centro Italia, ho capito che le persone del Centro Italia mi sono più simpatiche di quelle del Nord. Ti ringrazio, ti ringrazio. E quindi, forse perché mi trovo bene e quindi magari do di più, però davvero, sì, funziona... O forse anche il tipo di umorismo, non lo so. Eh, c'è un comico, mi pare Luca Ravenna, uno di questi comici, mi pare è stato lui, e... Sì, credo sia stato lui, sì, che ha detto che il modo in cui il pubblico nei suoi spettacoli si approccia alla sua comicità, lui dice a Milano, nel Nord, la gente viene, cioè fa una vita di un certo tipo, poi viene allo spettacolo comico e viene per ridere. È come se cambia la mentalità in quel momento e va a star lì per ridere. Invece quando è Roma o nel Centro Italia, la vita è un po' più scansonata, o secondo lui dice la vita è molto più scansonata, la gente fa battute anche durante ore di lavoro, durante la vita normale, quindi andare poi a vedere uno spettacolo è un proseguimento di quell'essere così più scherzosi e quindi trova un rapporto diverso, si rapporta lui diversamente a quel tipo di situazione proprio geograficamente. Chissà se c'è qualcosa con il Centro Italia... È possibile. Poi Romagna, quindi Romagna e poi Abruzzo. Sì, anche Marche, anche Marche, quindi tutta quella costa... Sì, sì, niente male anche con le Marche, mi trovo molto bene. E poi mi piacciono i luoghi, mi piacciono le parlate, no? Io non amo ad esempio moltissimo la cadenza piemontese o lombarda o veneta, a me mi piacciono molto di più quelle del centro. Ok, ok. Forse perché non sono nordico alla fine, io mi chiamo catalano che non è tipicamente un cognome, anche se sono nato a Torino però ho influenze del sud. Siculo napoletane, giusto? Bravo, sì, mio nonno era Siculo, era di aggrigento, mia nonna era napoletana, però non li ho praticamente conosciuti perché sono morti molto giovani, mentre dall'altra parte Mantua, che è Lombardia, ma è una Lombardia molto emiliana, sia come lingua sia come cibo, una di quelle città che hanno sbagliate, cioè doveva stare in Emilia, non in Lombardia secondo me, però quindi c'è questa cosa qua. Rido perché sono stato a Mantua qualche mese ultimamente, quindi conosco, non riesco, la cosa che mi dico di Mantua, a me piace fare le imitazioni, prendere in giro le persone e loro non riuscivo, le persone che ho conosciuto di Mantua, a imitarle perché con l'accento non riuscivo a capire però è Lombardo ma non è Lombardo, è Verdo ma non è Veneto, è Emiliano ma forse è più... Io sento molto Emilia, ma anche nel cibo se ci pensi, il cibo mantovano è molto Emilia. Il tortello... Con la zucca, i tortellini in balodo, tutte quelle robe lì. Sì, sì, è vero, è vero. Ma quando, esattamente quando hai cominciato, magari non proprio esattamente, con i reading? Eh guarda, esattamente non ti so dire il giorno stesso ma me lo ricordo benissimo, era il 99, quindi stiamo parlando di 24 anni fa, tantissimo, io arrivavo dalla musica, io scrivevo canzoni e le cantavo malissimo in un gruppo di amici... Picchia Freud. Picchia Freud, bravo, sei molto preparato e quindi ho iniziato così, poi a un certo punto il gruppo si è sciolto e a me piaceva scrivere fondamentalmente, mi piaceva scrivere questi testi che sono piano piano diventati poesie e il mio primo reading con dei musicisti, con un contrabassista e un sassofonista lo feci in un posto qui a Torino che non esiste più, che si chiamava Caffè Liber perché un mio amico faceva il servizio civile al Caffè Liber e mi invitò, aveva letto delle mie poesie e quindi era il 99, era lontanissimo 99. E quindi nel 99 però tu venivi già da un percorso iniziato... Sì, ho iniziato a 17 anni. 16 anni con il gruppo? Con il gruppo a 17-18 ho iniziato a scrivere questi testi, c'erano questi miei amici che già suonavano avevano il classico gruppo, no? Che musica facevate? Rock alla schiantos, cioè quindi demenziale perché c'ero io che scrivo dei testi assurdi ed era molto rock, proprio rock base, chitarra, batteria, basso e io cantavo male però scrivo dei testi divertenti. Quindi finisce il gruppo, però prima del gruppo, quindi avevi 17 anni, giusto? Prima di quello c'era già stato qualche... si era acceso a qualcosa con la poesia? No, assolutamente no. Oppure completamente zero? La poesia ho iniziato a frequentarla relativamente tardi, a parte la poesia scolastica che ti insegna a scuola, però Bukowski ha avuto un ruolo perché ho capito, mi affascinava molto, intanto un tipo di poesia che normalmente tu a scuola non ti fanno leggere e poi questa cosa del poeta che andava in giro e leggeva le sue poesie in pubblico mi affascinava moltissimo e quindi la poesia ho iniziato a frequentarla diciamo relativamente tardi, cioè prima la musica, poi la poesia, io tuttora vengo ispirato più dalla musica che dalla poesia, la classica domanda che spero tu non mi farai e cioè quali sono i tuoi poeti ispiratori eccetera... Non c'è? Bravissimo, io cerco sempre di scantonarla questa domanda e dico che le mie fonti di ispirazione sono più legate alla musica, quindi ai cantautori italiani per lo più, sia quelli storici, classici, sia anche qualcosa di attuale e poi anche ad altro, ad esempio le strumenti strisce a fumetti, Schulz, Calvin e Hobbes e altro perché ho avuto la fortuna di avere un padre che leggeva molti fumetti, soprattutto strisce, quindi fin da bambino leggevo questa cosa qua che se ci pensi è una cosa molto poetica, cioè riuscire in tre quadrati a raccontare una storia emozionante, divertente eccetera è cosa da pochi, quindi mi piacciono molto le strisce, Woody Allen anche, Woody Allen scrittore, io ho avuto la fortuna di conoscerlo molto giovane, anche lì perché ho trovato dei libri in casa di Woody Allen che ne ha scritti poi 4 o 5, non tanti, io ho capito che questo era un matto clamoroso e con ironia e una comicità mai vista, quello mi ha molto influenzato, credo. Sì, però queste influenze le hai assorbite, ti sei nutrito di queste influenze crescendo? Sì, in giovane età, Woody Allen, i fumetti. Però quello è stato il tuo percorso, altra parola che non amo, tipo l'energia di prima, però ti sei nutrito di queste cose, però chiaramente la poesia non c'era. La poesia è arrivata proprio, tu immagini uno che scrive dei testi, i testi di canzone se ci pensi sono simili alle poesie, anche se hanno bisogno della musica, raramente un testo di canzone è autonomo, anche i grandissimi testi se li leggi senza musica, così così e quindi sono passato a scrivere questi testi, ho capito che mi piaceva questa forma breve con le metafore, con il suono, il suono dentro la parola, mi piaceva molto, no? E quindi è proprio stato un passaggio, questo passaggio in cui poi ho dovuto iniziare a pensare a farlo senza musica, quindi con la musica interna, la poesia se funziona deve avere un ritmo e una musicalità, se no funziona così così, con tutto che continua a lavorare anche con i musicisti, quindi vedi, non l'ho abbandonata la musica, adesso la prossima tappa del tour, cioè la prossima trance del tour la farò con un musicista, perché comunque è una cosa che mi piace tantissimo, lavorare con i musicisti o i cantautori. Accompagnamento, sì, anche perché poi non so se l'avevi detto seriamente o meno, però il tuo sogno era appunto di fare la rockstar, no? Beh, sì, perché se ci pensi a 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 anni circa, 26, 27, facevo quello e mi piaceva l'idea di fare la rockstar, anche se non avevo i mezzi in realtà, perché appunto canto abbastanza male, non ho una voce, anche se sono abbastanza intonato, però è stato meglio così e poi, come dico, ho detto da qualche parte, nella poesia c'erano più posti liberi, molti più posti liberi, adesso meno, attenzione, se avessi iniziato, iniziarsi oggi, a parte che quando ho iniziato non c'era internet, figurati, ma adesso la poesia, come dicevamo prima, credo, mi sembra che l'abbiamo detto, o forse non l'abbiamo detto, comunque sì, adesso la poesia in Italia, ma nel mondo è molto, sta bene, cioè nel senso... Bene, in Italia anche per colpa, due? Forse, io questa cosa la rifiuto ancora, ma la rifiuto di avere un ruolo, però qualcosa forse c'è, perché quando ho iniziato in effetti eravamo pochi, molto pochi, c'era Cinaschi, il poeta milanese, Vincenzo Costantino, detto Cinaschi, che ha iniziato, credo, prima di me, di un paio d'anni... Già detto Cinaschi, già l'influenza... Esatto, però, appunto, ai tempi poi non c'era internet, quindi non sapevi cosa succedeva, lo sapevi meno, cosa succedeva nel resto d'Italia, non c'erano ancora i poetry slam quando è iniziato in effetti. Ok, ok, non mi piace la cosa del... c'erano meno posti liberi, mi ricordo a un qualcosa che ha detto Schwarzenegger, quando Schwarzenegger ha fatto questa autobiografia, io non leggo quasi mai questo tipo di libri, mi è stata consigliata talmente tante volte che alla fine ci sono cascato, in realtà ho apprezzato molto, anche se non lo seguo, le sue carriere non le ho mai seguite poi, però è un personaggio che ho rivalutato, sì, sì, molto, e lui quando si è candidato per diventare poi governatore della California, diceva di entrare in politica e la gente gli consigliava di fare, sai, cose piccoline, ho detto ma teoricamente è più facile riuscire a fare una cosa del genere, quindi diventare governatore, perché ci sono più posti liberi, cioè c'è meno gente che ambisce a quel ruolo, no? e quindi quando ho letto appunto che avevi detto, c'erano più posti liberi e poi non è neanche così corretto, perché come tu sai gli italiani sono un popolo di poeti, di poeti, di santi e navigatori, tantissima gente scrive poesia, veramente tanta, io me ne rendo conto facendo questo mestiere, poi moltissimi la tengono lì o poi smettono di di farlo, però ci sono più posti liberi, c'erano più posti liberi in questo mondo di poeti pop, diciamo così, poeti che vanno in giro e fanno i reading e vendono anche un po' di libri. E c'è un po' di snobbismo, hai detto adesso pop, verso la poesia pop? Beh sì, c'è un po' di snobbismo da parte di una categoria di poeti, critici e poeti, i critici della poesia sono sempre poeti, questo è un fattore fondamentale, non troverai mai un critico che non abbia scritto poesie o abbia addirittura pubblicato libri di poesia, sì, c'è un po' di critica nel senso che non è molto accettato, sia il fatto di usare la comicità dentro la poesia, non sempre è amata questa cosa, sia il fatto di essere, c'è una specie di regola non scritta, per cui la poesia è l'ultima ruota del caro da un punto di vista pratico, economico, commerciale, quindi nel momento in cui succede e succede rarissimamente che un poeta vivente, molto importante la parola vivente, inizia a vendere dei libri più della media, la media è penso 40 copie a libro, magari se ne vendi 10.000 può diventare un problema, perché allora significa che non è poesia o che stai barando in qualche modo. Adesso in Italia ad esempio c'è anche Arminio, Franco Arminio, che è uno che sta spaccando, anche se lui poi arriva da, è un signore che ha scritto molte cose prima, però quando si è lanciato in maniera intensa sulla poesia anche lui è abbastanza criticato, poi può piacere o può non piacere la sua poesia, però è proprio un errore del sistema, il poeta che vende, purtroppo parlo proprio di commercio, di soldi, o che riempie magari una sala con 500 persone che ti pagano un biglietto per vederti, è una cosa abbastanza eccezionale in effetti e non è ben vista da altri poeti che ritengono che invece la poesia sia una cosa che deve essere un po' chiusa nelle loro stanzette imbottite. Sì, sai, l'immaginario del poeta solitario che sta lì scrive, affranto quel dolore, quindi poi non c'è corrispettivo. Per fortuna adesso, cioè non adesso, da diversi anni le cose stanno cambiando, stanno cambiando, c'è il poetry slam come dicevamo, ci sono poeti che fanno delle performance incredibili, ormai non è più neanche solo poesia, è performance, è teatro, è stand up, è un mischione di cose. Io sono un poeta molto classico in confronto a quello che sta succedendo con le giovani generazioni, però fanno spettacoli, a parte il poetry slam, ci sono questi poeti che si creano i loro spettacoli, fanno gente, magari vendono anche qualche libro, quindi è un buon momento, ma se tu vai in libreria, anche una cosa interessante, se tu andavi in libreria vent'anni fa e ci vai adesso e guardi la sezione poesia, ce n'è di più, almeno io ho questa sensazione, una volta veramente la trovavi nel sottoscala con i ragni e le ragnatelle, adesso a me sembra che ci sia un po' il movimento poetico sia più vivo. Quando hai iniziato ho letto chiaramente, spulciando qua e là, di tutti gli altri lavoretti, lavori che hai fatto prima, immagino che c'era già la poesia durante quei lavori, mi riferisco a correttore di bozze. Sì, ho lavorato in qualche caso editrice, anche lì malissimo, infatti i miei mi hanno sempre mandato, ho fatto il correttore di bozze all'Einaudi, credo di essere stato il peggiore correttore di bozze dai tempi di Pavese ad oggi, infatti ho smesso, poi ho lavorato alla UTET, anche lì per poco, poi ho fatto il portiere, non di calcio purtroppo, ma in una residence lì, è stato figo perché avevo molto tempo libero, non esisteva ancora internet come lo conoscevo noi, quindi non mi sono, avevo molto tempo libero, leggevo molto e scrivevo molto, già lì, già scrivevo poesie, sicuramente sì. Poi c'è stato un certo punto in cui la carriera di poeta è diventata appunto una carriera e hai lasciato... I lavoretti, sì sì, assolutamente, è stata molto lenta, rispetto a quello che succede oggi, che è tutto molto più veloce, io se ci pensi ho iniziato nel 99 e oggi siamo al 2023 e adesso le cose mi vanno bene e sono molto felice, però ho avuto un percorso abbastanza lento ma costante, direi questo, lento ma costante, sono passato dalle piccole case editrici, piccolissime case editrici, piccole case editrici, fino ad arrivare adesso a Rizzoli, però ci ho impiegato un bel po' di tempo. Però c'era, quando è iniziato questo percorso, possiamo usare la parola? Possiamo usare? Mi piace. Guarda, dipende dai contesti, a volte è un po' troppo usato, non so, comunque la carica... Vabbè, è una cosa mia, la usiamo, quando è iniziato il percorso, avevi comunque l'ambizione di arrivare ad un certo punto, nel senso, avevi altre ambizioni oppure era solo quella di no, voglio fare... Ho fatto in modo di non avere il piano B, è molto importante non avere il piano B, se uno è ambizioso su una cosa, peraltro difficile, come quella che faccio, alla fine è abbastanza difficile, perché appunto è vero che c'erano più posti liberi, però poi riuscire a camparci diventa un altro discorso, quindi no, io avevo dovuto fare l'avvocato, perché arrivo da una famiglia di avvocati, mio nonno, Guido Catalano di Agrigento, era un avvocato, è nato nell'Ottocento, figurati, mio papà era un avvocato, io sono figlio unico, quindi era scritto già quando facevo il terzo elementare che io poi avrei fatto il liceo classico, avrei fatto giurisprudenza e avrei preso le redini dello studio catalano, invece ho fatto sei mesi di legge, di giurisprudenza e poi sono scappato, sono scappato perché non era il mio proprio, infatti ho dato un esame, mi hanno bocciato e mi hanno poi chiamato a fare il militare tra l'altro, perché sai ai tempi c'era ancora il militare obbligatorio, ma questa è un'altra storia, comunque sia, quindi no, poi ho fatto lettere, ma comunque sia, non avevo, quando ho iniziato a fare le poesie, ho iniziato a fare il reading, ho capito che funzionava molto, io l'ho capito da subito che questa cosa di leggere le poesie funzionava meglio ancora di quando cantavo le canzoni e quindi ho capito che volevo fare questo, io sono una persona ambiziosa in realtà, credo di esserlo, non lo posso negare, e ho evitato appunto i piani B, cioè ho detto, ho lavaro la spacca, più o meno. E' che poi è quella, la classica cosa che si dice, il piano B fa fallire il piano A, no? Ah, non lo so, ma sì, non l'avevo mai sentita. Ma non so se è una cosa classica o se... Il piano B, no, il piano B sì, però diciamo che potrebbe, sai cosa, ti può togliere un po' di energia e di concentrazione sul piano A, il piano B in effetti, sì. E quindi anche la, tra virgolette, la fortuna di aver fatto lavori, che uno adesso dice lavoretti, cioè se fossero stati lavori, non so sai, il lavoro che ti piace è un bene, però può essere anche un male, no? Perché ti ci trovi bene, quindi se hai un'ambizione per fare un qualcos'altro ti blocca... Ma ti dico la verità, io non saprei che cosa, cioè se tornassi indietro, cioè in un mondo parallelo in cui non avessi fatto questo, io non so davvero cosa avrei fatto, nel senso che ho fatto lettere moderne, quindi un tipico sbocco qual è l'insegnamento, e l'insegnamento è una cosa che ho sempre escluso, tuttora mi chiedono ogni tanto di fare dei corsi, esistono anche i corsi di poesia, figurati, ho sempre rifiutato di fare l'insegnante, insomma, non so perché ho avuto dei traumi a scuola, soprattutto al liceo, quindi non ho ancora fatto pace con questa cosa, quindi non so, poi ho evitato la giurisprudenza, lì avevo un lavoro bello avviatissimo, ho evitato quella roba lì, quindi non so che cosa avrei potuto fare, sinceramente, cioè non avevo altre ambizioni, tipo voglio fare il giardiniere, mi piace la natura, voglio fare, che ne so, una barca, come si chiamano quelli che portano le barche a vela, il skipper, non so, perché ci sono quelli che vogliono fare gli skipper, incredibile, ma è vero, ed è giusto che lo facciano, perché una barca a vela ha bisogno di uno che la porti, io non avevo molti altri, io avevo l'ambizione di stare su un palco con il pubblico, se ci pensi ho iniziato a 17 anni, che è abbastanza presto, no, cioè ai tempi secondo me era presto, oggi molto meno, comunque sia, quindi io avevo questa ambizione di scrivere storie, però raccontarle ad alta voce, sono finito nella poesia, avrei potuto fare, scrivere, smettere di andare a capo e scrivere cose non di poesia, ok, monologhista, sì, adesso vanno molto gli stand-up, no, da qualche anno il cabaret è cambiato in Italia, non c'è più il cabaret alla Zelig, ma c'è la stand-up comedian, che a me piace molto, peraltro, quando è fatta bene, e alla fine è una roba un po' simile, perché quello che faccio io è, sto in piedi in effetti da solo, con un microfono e racconto delle cose, che alle volte fanno pure ridere, quindi... No, no, infatti mi piacete sia tu che citavamo prima il tuo amico Roberto Mercatini, perché fa delle due cose che sono, sì, è poesia, ma non è al 100% poesia come uno può immaginarla, quello che fa lui lo stesso, non è una cosa che sta in una scatola ben definita in categoria, e però ne esce fuori un intrattenimento che va oltre l'intrattenimento e quindi piace poi comunque, il successo che avete parla da solo, ma quindi torniamo sempre al percorso, durante questo percorso non c'era piano B, però ci sono stati momenti in cui, momenti brutti nel senso... Beh certo, anche perché appunto come ti ho detto è stato un percorso molto lento, molto lento, io credo che la lentezza in alcuni casi sia un ottimo fattore, nel senso che ti consente di costruirti le fondamenta, ecco, le fondamenta per la tua casa, invece fare troppo velocemente, arrivare troppo velocemente può essere rischioso, comunque sia ho avuto dei momenti di, come si dice, di difficoltà chiaramente, in cui ho pensato, però cavolo, forse questa roba qua non riesco a farla e non ho il piano B tra l'altro, quindi lì ti entra anche l'ansia del futuro, a un certo punto sono andato a vivere in Svizzera per amore, ho conosciuto questa ragazza, quindi sono andato a Svizzera a Lausanne, quindi francese, un po' di francesi in realtà lo so, e sono durato due settimane, dicendo a tutti che sarei andato lì a vivere per sempre, lì stavo un po' abbandonando, anche perché in Svizzera le poesie, le facevo tradurre della fidanzata in questione, ma insomma ho avuto dei momenti in cui la carriera poetica ha traballato, però poi sono andato avanti. E questo, l'esperienza svizzera in più o meno che periodo era già? Eh guarda, era il 2001-2002 direi, era il passaggio dell'euro mi ricordo, mi ricordo che c'era il passaggio dell'euro, cioè dalla lira all'euro, tu per non fare il passaggio sei andato 200 francos, e lì avevo iniziato da relativamente poco, avevo già fatto un libro e stavo per fare un secondo ecco, e quindi lì sono andato in Svizzera, ma ripeto è durata due settimane, mi prendono in giro ancora adesso, perché io sono partito con le mie valigie di cartone, salutando tutti, dicendo, no ma davvero, con gli amici che mi hanno accompagnato, i miei che mi guardavano stupiti, ma probabilmente sapevano che sarei tornato abbastanza presto, e quindi ho avuto poi anche momenti in cui appunto, mi sono fatto un gran mazzo devo dire, perché se penso solo a quanti spettacoli reading ho fatto in questi anni è impressionante, ai tempi facevo 100-150 date all'anno, ed ero solo, ai tempi vuol dire nei primi anni 2000-2002, quando ho iniziato a fare un po' più seriamente questa cosa, ero solo, andavo in giro con il mio trolley pieno di libri che vendevo poi dopo i reading, perché non c'era praticamente una distribuzione reale con la mia prima casa editrice, e quindi in più non c'era neanche Amazon come la conosciamo oggi, cioè insomma i libri potevi comprare fondamentalmente da me e in pochi altri, quindi giravo per l'Italia in treno, anche perché non ho la patente, quindi non potevo andare in macchina, e da solo, avrei dovuto avere un tour manager che adesso per fortuna ho, però ai tempi non... e quindi no, è stato molto interessante, anche faticoso, ma formativo, molto formativo, però lì era già comunque il tuo lavoro? Nel senso era... No, diciamo i primi anni 2000 sono anni in cui io avevo anche gli altri lavori, cioè appunto ho fatto in modo di non aver mai un lavoro di quelli che ti assorbano troppo, capito? A parte quando ho fatto il portiere in una residence, ma lì è durata un paio d'anni, insomma, tra l'altro non... Ti assorbano proprio a livello di energie mentali proprio come... Ma anche di tempo, perché per fare questo lavoro qua tu devi poter prendere e andare, cioè se tu hai un lavoro tipo otto ore al giorno, cinque giorni alla settimana, diventa veramente difficile, dato che per me non è solo scrivere il libro, scrivere le poesie, pubblicare il libro e poi magari fai quattro, cinque presentazioni. Io se esce un libro ne faccio cinquanta date, che poi non sono presentazioni, sono reading, spettacoli, però le due cose non funzionano insieme quasi mai. Quindi o poeta o poeta. Eh sì, poeta è anche uomo di spettacolo poi alla fine, quindi un lavoro troppo impegnativo da un punto di vista anche solo di tempo, non... come si dice? Si deve avere due vite per fare tutto. Beh, il nostro amico Roberto Marcadini, che per dieci anni ha fatto l'ingegnere... Ti viene informato. Lui, io c'ero quando... io c'ero, ero a casa sua, quando a un certo punto lui... A un certo punto faceva tantissimi spettacoli che andavano benissimo e quindi si è trovato in una situazione in cui o fai un part time oppure... infatti poi ha smesso di fare il suo lavoro di ingegnere e ormai fa... anche lui gira per l'Italia con grandissimo successo ed è una bellissima storia questa. Lui è passato prima da un lavoro, diciamo, classico... Che gli piaceva anche dall'altro. Certo, beh certo. Io invece ecco non sono mai... ho avuto la fortuna forse di non passare mai un... cioè ho fatto dei lavori che mi servivano per campare, insomma, per i primi anni, però poi la cosa è iniziata a ingranare e quindi potevo diminuire i lavori e fare... e aumentare quest'altro lavoro, perché poi alla fine è un lavoro anche questo, però è un lavoro che mi piace molto. Sì, sì, mi ricordo lui infatti ha detto proprio... a un certo punto lui ha fatto questo salto anche perché la carriera da informatico la vedeva con le varie crisi mondiali economiche, la vedeva più traballante di quella da teatrante, scrittore. Incredibile ma vero. E tu invece, cioè la tua carriera, come la vedi, c'è un po' di... sai, comunque vivendo parecchio anche online per forza di cose, la vivi un po' con un po' d'ansia col fatto che sai, le cose online sembrano sempre che... non si sa poi come possa essere il futuro, oppure un'evoluzione, una piattaforma che cambia. Cioè, beh sì, io... guarda, io sono un grande amante di internet, ho in tempi non sospetti aprì il mio primo sito blog del 2005, quando c'erano i blog e basta, e c'era la blogosfera, quindi i social erano i blog, c'erano le blog star, c'erano i blog meno famosi, sono entrato in questo giro e ho capito la potenza di internet, lì l'ho capita, cioè il fatto che io potevo scrivere una cosa sul mio blog e potenzialmente lo potevano leggere migliaia e migliaia di persone, non milioni, cioè non in tutto il mondo, proprio perché io scrivo in italiano, però lì ho capito la potenza. E in più a me diverte molto, cioè a me il social, il blog, internet, mi ha molto divertito o meglio, adesso mi diverte un po' meno perché sono un po' stufo, però sono stato molto presente, prima su Facebook, poi sì anche Instagram, Twitter ce l'ho ma non ho ancora capito bene come può funzionare con me, in realtà lo uso male, poi adesso è arrivato TikTok eccetera, però a me è sempre molto divertito e secondo me è un fattore fondamentale divertirsi, se non lo fai fare a un media manager come fanno in molti e io invece mi diverto a usarlo io, diciamo il social, oggi faccio più fatica perché sono vent'anni ormai, no sì, e quindi mi annoia un po' di più e poi sono molto cambiato, giustamente poi cosa succede? Che Facebook adesso sta un po' scendendo, quindi devi sempre essere molto aggiornato e io non ho più tanta voglia di aggiornarmi, quindi TikTok me lo sono aperto due mesi fa, l'ho guardato e l'ho spento, lì avrei bisogno di qualcuno che mi aiuti perché non ho più tanta voglia di aggiornarmi e saperli usare bene. E domanda pure questa forse stupida, però il fatto che uno utilizzi le piattaforme, uno ovvero tu poeta, Roberto, YouTube, crea pure un po' di, non di dipendenza però sai, cioè tutte le uova sono in quel paniere no? Sì. Se poi da un giorno all'altro, non so, Instagram ti venga a dire guarda da oggi i poeti non sono più ammessi? Certo, infatti no, allora una cosa da fare innanzitutto è non abbandonare mai il proprio sito, il mio blog ce l'ho e lo uso ancora, nel senso quando faccio i tour dico raga andate a vedere lì le date eccetera, quella è casa mia, pago anche qualche soldino all'anno per avere il mio spazio e Zuckerberg non me lo può togliere quello e non può neanche cambiare le regole, però sì, bisogna stare molto attenti alla dipendenza. Io sono stato dipendente da social, nel senso che sai quella roba, come si dice, quell'ansia da like, metti la poesia e vedi che c'hai solo 100 like mentre magari due anni prima ne avevi 2000, lì è semplicemente Zuckerberg ha schiacciato un bottone e adesso devi pagare per farti, per girare di più, però può essere pericoloso sicuramente, ma la dipendenza da social credo che l'abbiamo già studiata abbondantemente, no? Sì, sì, non ho parlato di dipendenza proprio di, più che dipendenza di indipendenza da social. No, non si può, io se arrivasse qualcuno e mi dice se tu adesso non puoi più usare Facebook e Instagram, che diciamo sono i due social che uso, sarebbe un guaio, sarebbe un guaio, chiaramente poi uno farebbe in un altro modo come si è sempre fatto prima, però in questo momento sono dei mezzi, è come dire non hai più l'automobile, capito? Se tu lavori, se fai un lavoro che devi andare in automobili, se ti tolgono la patente perché ti beccano che hai bevuto troppo, c'è gente che è fregata se non puoi usare l'automobile. Sì, il rappresentante che sta tutta la vita in macchina. Se tu mi togli Facebook e Instagram in questo momento mi fai un danno notevole e tra l'altro sono cose che succedono, non perché Facebook dice tu, ma perché ti possono hackerare, a me, a una mia amica è capitato, è capitato poco tempo fa, aveva una pagina di 10.000 follower, è successo un grande casino di hackeraggio e lei ha perso per sempre quella pagina, può succedere, infatti bisogna stare attenti in realtà, sono dei mezzi complicati, complessi. No, la volatilità, c'è questo personaggio ex imprenditore, vari titoli, americano Derek Sievert, tra l'altro che chiamai Sievert se lui mi corresse, io pensavo di pronunciarlo all'inglese, e lui ultimamente sta parlando parecchio di indipendenza tecnologica, nel senso che lui non usa social, ma non tanto per l'altro tipo di dipendenza, quella di stare tutto il tempo con il telefone, più che altro, questa è la mia casa, lui raccoglie attivamente indirizzi email, lui dice io uso l'email, uso solo questo, quindi ha un rapporto con la gente, è molto famoso in America, quindi ha questo rapporto con le persone diretto, e usa quello perché dice i social possono cambiare negli anni, l'email va avanti da quanti anni, da 20, 30 anni, è anche il tuo sito personale, è casa tua, poi anche lì può succedere qualcosa, può arrivare un hacker che te lo devassa, però comunque non sei sotto le regole, sotto un algoritmo, sotto le altre regole, che poi cambiano, le regole te le cambiano in continuazione e ti fanno faticare parecchio, no no, ma infatti sono d'accordo con Severs, nel contempo io non potrei fare meno, tra il mio lavoro in questo momento non potrei fare meno dei social, perché ormai ci sono entrato dentro, quindi sarebbe un grande danno, sarebbe un danno. Pensavo sempre, mi chiedo sempre, ma persone che hanno un seguito importante sui social, ci pensano a sfruttare i social come piattaforma per poi prendere queste persone, dicevo prima dell'email, quindi raccogliere indirizzi email, avere una lista propria, non so tu ci hai mai pensato a sfruttare il tuo, casa tua online, il tuo sito in quel senso? No, io avevo, facevo una, avevo una mailing list molto molto ricca ai tempi, di quando avevo solo il blog e per informare le persone la usavo assolutamente, adesso non lo faccio più, anche perché penso che essere bombardati dai mail non sia una cosa piacevole, poi la gente secondo me non le legge più, le mail pubblicitarie, almeno io le cancello senza leggerle, quindi non le uso più, però l'ho fatto, l'ho fatto, la mail l'ho usata tantissimo, addirittura avevo una mailing list in cui mandavo delle poesie, cioè se tu ti scrivevi, io una volta a settimana ti mandavo delle poesie inedite e anche dei raccontini e delle cose, sì sì. Dicevi prima non scrivi le poesie a tavolino, però in realtà sono scritte a tavolino, come è il tuo processo creativo? Allora prima di tutto scrivi appena, adesso mi interessa questa cosa, scrivi appena o a computer? No, non scrivo, appena scrivo solamente gli appunti, mentre che sto viaggiando mi viene un'idea, siccome io peraltro non ho, non possiedo uno smartphone a proposito di, io ho questo telefono qua che adesso a favore di telecamera, si chiama Nokia 3310, non vengo pagato dalla Nokia, però non ho uno smartphone, quindi prendo appunti a mano quando sono in giro e poi scrivo assolutamente al computer, non sono neanche più tanto, cioè se tu mi dici di scriverti una lunga lettera a mano faccio fatica, purtroppo ho perso proprio la manualità della scrittura purtroppo, scrivo poco, quindi scrivo così, a parte appunto gli appunti su un tacquino che mi porto quasi sempre dietro e poi scrivo, mi piace scrivere anche molto in giro, scrivo a casa, ma mi piace molto scrivere in treno, anche in aereo io l'ho fatto, o al bar, nel senso non mi dà fastidio la gente, anzi mi concentro abbastanza bene quando sono in mezzo alla gente, rumori vari, poi scrivo, poi è diversa la poesia della prosa, la prosa è un tipo di concentrazione diversa dalla poesia, la poesia per me è ispirazione reale, la prosa è una cosa più artigianale, quindi più pensata, cioè ho bisogno di stare a casa da solo, la poesia la posso scrivere dovunque e quindi pezzi di poesia in effetti l'ho scritti a mano, però poi ho bisogno del computer. Ah no, dici, intendo proprio come prima stesura, come primo approccio, se c'era scritto a mano. Sì, lo faccio a mano, ma sono proprio idee, versi, titoli, ecco, una poesia intera scritta a mano, anche una bozza di poesia intera scritta a mano, non lo faccio da molto tempo. Scrivere in metodo alla gente mi ricorda Andrea Pinkett, scrittore milanese. Certo, l'ho conosciuto. È un grande personaggio in tanti sensi e lui scriveva al trottoire questo locale milanese, ma in mezzo al caos, noi andammo tanti anni fa con un amico a conoscerlo, a trovare, lui stava lì e scriveva prima che poi iniziasse la serata vera e propria, però oltre che scriveva dopo non so quante birre e quant'altro, ma con tutto il casino, questa è una cosa pazzesca e non ho mai sentito di altri scrittori di prosa che scrivessero in mezzo al casino dei navigli. No, neanche io. Però poi il risultato finale era piacevole, quindi sicuramente aveva trovato un suo modello da seguire. Invece hai comunque uno schema che segui sempre a livello lavorativo stronzata, proprio a livello di orari di lavoro, oppure col fatto che hai tante date devi per forza trovare spazi poi... Guarda, le dati in realtà ormai non sono più un problema. Una volta poteva essere un problema perché come ti ho detto ne facevo 150-180 l'anno, quindi praticamente tutto l'anno. Era un never ending tour. Adesso invece da qualche anno lavoro in modo diverso, faccio poi i tour, un po' come i musicisti se vuoi, no? Che esce un disco, fa il tour invernale e fa il tour estivo, quindi magari sono venti date e venti date. Quindi ho molto più tempo, ho molto più tempo rispetto a prima. Cambia molto anche lì prosa e poesia. La poesia, possono passare anni che io non scrivo una poesia e poi ad un certo punto si apre questa specie di portale magico e arrivano. Io devo essere molto bravo ad acchiapparle, le acchiappo, come fossero delle farfalle e questo dura per magari qualche settimana e poi magari il portale si chiude. In quelle settimane io devo accapiare il più possibile. La prosa invece quando ho scritto dei libri in prosa ho cercato di darmi delle regole. Io funziono molto di mattina, quindi anche svegliarmi presto, scrivere il più possibile di mattina e poi magari il pomeriggio fare altro. Però quindi il metodo sulla poesia non posso dire di avere un metodo, è tutto molto casuale, caotico. Questo ultimo libro di poesia che è uscito tre mesi fa io ecco non scrivevo poesie, cioè non scrivo poesie da anni. Smettere di fumare baciando? Smettere di fumare baciando e erano sei anni che non usciva un libro di poesie e il motivo è che erano anni che non ne scrivevo più o pochissime, pochissime. E in un'altra intervista spieghi anche un po' il motivo poi non so se sia reale o meno che giustamente l'ispirazione per le poesie viene spesso da un'infelicità, traumi d'amore, giusto? Sì, assolutamente. Io le chiamo PFR, le poesie di fine rapporto, le PFR e ne ho scritte tante. In effetti a me il trauma amoroso mi ha sempre molto 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 ispirato. Il mio primissimo libro che si chiama I cani hanno sempre ragione, è uscito nel 2000, era frutto di un trauma amoroso molto potente, cioè se io lo rileggo vedo che il 70% delle poesie parlano di quella roba lì. Anche in quest'ultimo libro e nel penultimo ce n'è di trauma amoroso, però siccome adesso sono abbastanza felice, sono felice, sono sereno, questa serenità mi è un po' fottuto l'ispirazione del trauma, però d'altra parte è un paradosso, è il grande paradosso, cioè bisogna poi imparare a scrivere anche quando si è sereni e felici e in amore, soprattutto per chi scrive molte poesie d'amore come me. Però ce l'ho fatta, la buona notizia è che in questo libro, in cui si parla di tantissima roba, d'amore, non d'amore, di cibo, di viaggi, di un sacco di roba, c'è anche l'amore felice e c'è anche l'amore infelice. Quindi non c'è nessuno a Rizzoli che paga la tua ragazza per litigare? Ci avevo pensato, ci avevo pensato che potrebbe essere, no sarebbe un disastro, sarebbe un disastro. No no però mi faceva ridere come idea, no poi esatto come hai detto tu poi tra l'altro nel libro nell'ultimo c'è tanto a livello di tematiche si copre tanto, tra l'altro non ho contato le poesie perché poi mi ero reso conto che nel libro precedente avevo scritto 144 poesie bellissime come sottotitolo, ma in realtà ero 160, sono tantissime, anche in quest'ultimo sono 107 poesie, che sono 108 in realtà, però mi piace molto di più il numero 107. Sì, tra l'altro questo è una caratteristica, me ne sono reso conto ultimamente, una delle mie caratteristiche in quanto scrittore di libri di poesia è la quantità mostruosa di poesie che metto dentro un libro, perché se tu vai a vedere i libri di poesia di poeti viventi, attuali eccetera, facilmente trovi questi libri con 30-40 poesie a dire tanto, io invece metto tutto e sono stupido perché io con un libro come ogni volta che mi bacio muore un nazista, cioè il penultimo, che sono 160 poesie, potrò fare tre libri e con questo qua, che sono 107 poesie, ne potrò fare almeno due, cioè sono cinque libri di poesie di un poeta normale, solo che io metto tutto ed è una cosa strategicamente, tatticamente non furbissima, però mi piace così, cioè non posso dire queste stanno fuori, magari non ce la farei, non ce la farei. E l'editore non ti mette chiaramente i paletti di questo? Secondo me l'editore va bene un libro bello pieno perché lo vende più caro. Ah, può giustificare il prezzo? Non so, non ne ho mai parlato, però credo che allora vada bene, perché sai un libro con 60 pagine, 70 pagine non lo puoi vendere a 18 euro, cioè lo puoi vendere a 18 euro, perché ormai i libri sono tantissimo, però hai capito, credo che gli vada bene. Infatti un'altra cosa che mi chiedevo pure, non ti è mai passata per la testa l'idea dell'autopubblicazione? Adesso tramite Amazon è più facile farlo, ma io mi chiedo sempre appunto per una persona come te o comunque che abbia un seguito abbastanza importante, autopubblicazione significa avere già una platea pronta a leggerti più che ad ascoltarti, poi non so chiaramente come funzionano nello specifico i contratti editore e autore, però con l'autopubblicazione con un libro venduto a non so 18 euro, circa 8 euro, 7-8 euro vanno dirette in tasca d'autore. No, non ci ho mai pensato perché mi è sempre piaciuta l'idea di essere scelto anche, di essere scelto da un editore, mi è sempre piaciuto e comunque l'editore ti fa un, voglio dire, io sono anche un pigro peraltro, quindi dovevi mettermi a fare tutto da solo, impaginare, creare e quindi non lo farei mai. In più, quando inizia a passare alla grande editoria ci sono gli anticipi, cioè un editore ti dice allora io se tu fai questo libro con me, appena firmi un contratto ti do tot, appena esce ti do tot, questi soldi sono soldi che tu prendi anche se vendi 10 copie, se ne vendi tantissime poi inizia a guadagnare, cioè scalano, no? L'anticipo per uno che vuole vivere di scrittura è abbastanza importante perché sono soldi che ti servono per vivere. Con l'autopubblicazione questa cosa non avverrebbe, anche se ci sono casi di gente nel mondo che con l'autopubblicazione ha venduto tantissimo, tantissimo, poi spesso questi sono diventati magari, poi sono stati presi comunque da una casa editrice grossa, spesso capita anche quello, però... Se l'offerta dell'anticipo supera poi... Esatto, io non ho nulla contro l'autopubblicazione ma è una cosa che se non l'ho fatta ai tempi chiaramente adesso non... Poi ci sono gli editori, anzi, che ti fanno pagare, ci sono anche editori veri che ti fanno pagare per pubblicare, soprattutto nel mondo della poesia e questa cosa non dovrebbe succedere. Questo è un altro mondo, io lo consiglio spesso ai giovani poeti che mi chiedono consigli e mi dicono sai c'è questa casa editrice che afferma di essere stata molto... che le mie poesie siano molto buone però devo comprare 300 coppie e quelle cose lì e allora no quello non vale la pena, anche perché sono per lo più truffe queste qua, anche perché ti promettono cose che poi non mantengono tipo che non solo ti pubblicano ma poi che ti fanno girare, che ti fanno conosce e non è vero, questi acchiappano i soldi e poi i libri rimangono lì. Sì 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 sì, in inglese li chiamano editorie di vanità, adesso non so come italiani italianizzabili però sì che un po' spiega il tutto. E parlavi prima di riferimenti culturali extrapoetici ovviamente, no non c'era veramente la domanda, non era una battuta, e adesso quelli che hai detto prima quindi da Woody Allen, con chiaramente Bukowski, però cose che leggevi in età adolescenziale, post-adolescenziale e immagino anche Schianto se hai fatto riferimento alla tua esperienza musicale, invece adesso ti nutri ancora attivamente, cioè prendi ancora ispirazione dal mondo musicale e non? Certo che sì, io amo tantissimo Stephen King per dire, continuo a leggere Stephen King perché poi ha scritto talmente tanti libri che non è una fonte di ispirazione Stephen King purtroppo, nel senso che purtroppo io non scrivo romanzi horror, mi piacerebbe molto farlo ma non credo di essere capace, quindi Stephen King è chissà, poi in realtà mi ispira anche lui senza che io lo sappia, però ascolto molta musica, io continuo ad ascoltare molta musica e vedo molti film, molte serie tv, peraltro sono laureato in storia del cinema anche se ne so veramente poco, ma a parte quello, quindi sì io continuo ad ascoltare molta musica ma anche musica, voglio dire, una canzone di De Gregori, di Guccini, di Battisti, potrei dire di De Andrè che tu hai ascoltato magari cento volte, poi a un certo punto l'ascolti la centonesima a me capita, l'ascolti la centonesima e capisci delle cose che non avevi capito o ti dà un'energia, un'ispirazione che, le canzoni mi ispirano molto, le canzoni dei cantautori anche le canzoni attuali, io amo molto, non so, gli Zen Circus, Dente, che è anche un mio amico Bruno Ori, da poco ho conosciuto Fulminacci, l'ho conosciuto nel senso, mi piace molto come scrive ad esempio e io quella roba lì, ho pure il mio concittadino Willy Peyote che scrive benissimo fa rap diciamo, ma quindi non è un mio genere, però scrive benissimo quindi io mi ispiro molto a quello che scrivono gli altri in questo senso poi anche la poesia ci mancherebbe, però, però, e i film, anche i film cioè capisci, è come cibo, è come cibo nel senso uno deve mangiare per sopravvivere infatti dicevo nutrio, ho usato nutrio e apposta poi magari tu non te ne accorgi neanche, ma se tu non leggi, se tu non guardi film se non ascolti musica, difficilmente puoi creare secondo me quelli che scrivono e non leggono e che esistono, che leggono pochissimo ecco, difficilmente secondo me possono produrre qualcosa di decente eh no, prima, citavo prima Pinketz, un'altra cosa che diceva Pinketz che gli chiedevano, appunto, di suoi riferimenti cosa legge Andrea? lui diceva, io non leggo gli altri scrittori, io li controllo e al di là, beh, chiaramente detta da lui faceva più ridere però no, mi piace il controllare, no? perché non so, magari vedi, cioè leggi la stessa cosa però la leggi con un altro occhio e vai a, magari anche non volendo, vai a trovare alcune cose, alcune dinamiche proprio all'interno di un testo o per quanto riguarda la musica, qualsiasi cosa che da spensierato forse non vai a trovare, non vai a cercare proprio e quindi mi piace questo controllare e poi sì, in realtà è un nutrirsi è un nutrirsi, sì, 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 sì cioè ci sono, ho passato dei periodi in cui ho letto poco magari capita il mese che leggi poco, magari perché non hai tempo e poi mi rendo proprio, o anche che non scrivi ma non leggi per un po' e ti senti che manca qualcosa io sento che manca qualcosa, quindi anche la scrivere se passa troppo tempo di non scrittura attiva ecco, sento che manca qualcosa nel mio equilibrio di vita e scrivi tutti i giorni oppure hai periodi in cui non scrivi? no, no, ho periodi che non scrivo, appunto, come ti dicevo la poesia ad esempio viene e va e quindi ci sono momenti che non scrivo ci sono stati momenti che non scrivo anche due o tre al giorno che è una cosa incredibile, no? due o tre al giorno, magari per settimane due poesie al giorno e poi magari passano tre anni due anni che scrivo zero poesie però per fortuna lì mi è venuta in aiuto Rizzoli che mi ha costretto dall'inizio a fare anche i romanzi e quello è un bel aiuto nel senso, un aiuto di Rizzoli nel senso che io non avevo assolutamente programmato nella mia vita di scrivere romanzi cioè proprio una cosa che non pensavo neanche di poter fare invece questo mi ha aiutato anche proprio a variare è una dieta variata, no? posso rimangere solamente carboidrati ogni tanto devi mangiare un po' di verdura ecco, e quindi quello mi ha aiutato perché nei momenti in cui non ho scritto prosa ho scritto poesia, ho scritto prosa ho scritto addirittura delle fiabe quindi questa è una cosa molto abbastanza fondamentale poi comunque appunto avere l'editore che mette delle scadenze importantissimo vabbè certo ti costringono fanno sì che poi il lavoro viene portato a termine poi hai l'editor, attenzione tu prima dicevi autoproduzione sì, sì, è chiaro e l'editor dove lo metti? c'è tutto, c'è tutto un altro lavoro non sto parlando della poesia perché nella poesia l'editor a me quanto meno serve molto meno ma io senza la mia editor Arianna con cui ho lavorato praticamente in tutti questi anni di Rizzoli e con la quale si è sviluppato poi un'amicizia chiaramente però lei è stata fondamentalissima nella parte di prosa cioè è una persona che ti aiuta proprio anche nei momenti difficili di blocco eccetera l'editor è fondamentale quindi no, no, ok è un lavoro bellissimo tra l'altro secondo me se lo fai bene, se ti piace è un bel lavoro l'editor sì beh sono quei lavori sai che che non prendono le copertine un po' come il traduttore dei libri e uno non ci fa caso però poi cavolo c'è tanto lavoro dietro infatti ci sono editor che hanno cambiato la storia della letteratura poi ci sono anche attenzione, autori che rifiutano l'editor è una cosa molto interessante potrebbe ecco tu dovresti se non l'hai ancora fatto intervistare un editor perché non può magari fare i nomi e questo è il problema perché giustamente però io che ne ho sentite di tutti i colori e ci sono poi gli autori veramente pesanti con l'editor e che rifiutano l'aiuto alcuni se lo possono permettere perché magari sono bravissimi da solo alcuni no e infatti poi si vede si vede il prodotto finito con poco poco editing diciamo è un bellissimo lavoro è anche un lavoro da psicologo l'editor è uno psicologo nel mio caso una psicologa un'amica una parente quasi diventa ebbè compagna di viaggio spesso sono viaggi faticosi soprattutto nella prosa ripeto perché nella poesia come ti dicevo arrivano io mi diverto tantissimo e basta a scrivere poesie cioè mentre la prosa puoi avere delle crisi io il primo romanzo ci ho impiegato due anni a farlo a un certo punto è arrivata la telefonata di Rizzoli dicendo è un po' troppo è un po' troppo e lì mi sono svegliato però lì non avessi avuto la mia editor di fiducia probabilmente non avrei finito quel libro lì e quindi non avrei poi fatto probabilmente altri libri con Rizzoli e sarebbe successo qualcos'altro prima hai citato non so se era un riferimento particolare però hai detto i lavori ho fatto il portiere di uno stabile di un residence non di che purtroppo non di calcio quel purtroppo è perché c'è una passione calcistica io sono io facevo il portiere di calcio ah ok solo che ho avuto il blocco della crescita e quindi come tu sai l'unico ruolo in cui devi avere un fisico notevole è il portiere voglio dire abbiamo esempi di calciatori molto bassi anche magari un po' tracagnotti eccetera fortissimi il portiere ormai deve ai tempi miei mi ricordo che c'era Tancredi della Roma che era se mi ricordo bene 1,75 quindi molto basso per essere un portiere io però sono 1,66 e quindi al limite a calcetto potrei giocare ma non mi sembrava il caso e quindi ho giocato in porta prima con gli amici al campetto poi ho anche provato in una squadra per una porta sono 7 metri per 2,10 ed è una cosa gigantesca per questo i portieri devono essere alti 1,90 2 metri essere grossi cioè quindi non e mi piaceva molto il portiere mi piaceva veramente molto come un ruolo affascinantissimo affascinantissimo però non sono non sono più cioè ero appassionato di calcio alle medie ecco sono della Juve ma adesso non mi diverte più molto quindi no stavo pensando a portieri bassi sai che poi è un'altra cosa mi vengono in mente i portieri bassi mi viene in mente Luca Bucci che forse ha giocato anche con il Torino qui a Torino e quanto è alto? ma io dico che è basso in realtà sarà 1,80 magari è perché se la media poi magari no ah certo se la media dei portieri è 2 metri o anche dei calciatori non solo dei portieri ormai è cambiato ti ripeto negli anni 70 quando io seguivo il calcio negli primi anni 80 secondo me la media eravamo tutti più bassi cioè è così sta succedendo questo io vedo i giovani i giovanissimi sono più alti no? sì 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 quindi sì probabilmente 1,80 per un portiere oggi credo che sia abbastanza poco io però 1,67 proprio non c'era possibilità ed ero pure bravo secondo me poi in più non ci vedo c'è anche questo fatto vero che ci sono le lenti a contatto però però ho giocato a rugby ho giocato a rugby ed ero bravo perché mi buttavo non avevo paura dello scontro fisico forse per quello anche che mi piaceva il portiere perché il portiere è uno che è quasi un reggbista è quasi un reggbista se ci pensi perché si butta usa le mani chiaramente e poi nelle mische cioè lì dentro cioè in un'area di regore succede di tutto cioè quindi fico mi piace l'idea del poeta rugby hai mai scritto qualcosa qualche poesia a memoria adesso non me ne ricordo sul portiere ad esempio ne ho scritta una che però non era riuscita bene e neanche sullo sport pochissime in effetti ultimamente ho scritto sul cibo cosa che non avevo fatto prima ho scritto qualche poesia sul cibo che è una cosa che ti viene spesso chiesto siccome il cibo è sempre moda da qualche anno ormai la moda del cibo dal master chef in poi mi hanno chiesto ma tu hai scritto qualcosa mi hanno invitato magari in situazioni dove si parlava di cibo e l'ho sempre fatto poco invece a sto giro qualcosa sul cibo l'ho scritto quindi magari nel prossimo libro c'è volo il portiere o i portieri sia il violismo no però il portiere ne ho scritto in prosa nel primo romanzo racconto questa storia del portiere di calcio del fatto di uno dei miei primi traumi in realtà parlavo di delusioni nella vita tutti noi a un certo punto abbiamo delle delusioni una delle prime delusioni che io ricordo a 14 anni era il fatto che mi resi conto che non non diventavo più cioè mi ero bloccato non diventavo più alto cioè rimanevo e lì mi rendevo conto che è stata una grande delusione non poter giocare come portiere in una porta regolamentare però non avevi cioè avevi proprio l'ambizione sai quella classica voglio fare il calciatore io volevo fare io ero convinto di diventare portiere della nazionale di calcio il mio amico era Dino Zoff perché quando io facevo le medie c'era la Juve dell'82 quindi Scirea Gentile Cabrini penso che me li ricordo Rossi Scirea Gentili Cabrini Tardelli Zoff e non so più e Dino Zoff che tra l'altro non era uno spilungone è ancora vivo tra l'altro non credo che fosse 1,95 comunque io ero convinto di diventare portiere della nazionale e probabilmente lo sarei diventato perché ci ho pensato mi piace questa no se sono riuscito a fare il poeta professionista vivente che è una cosa abbastanza difficile figura del portiere il portiere di calcio lo potevo fare fossi stato alto 20 centimetri in più 1,66 avrei potuto fare magari non nella nazionale ma nella Juve mi prendevano o nel Toro anche beh il Toro meglio dai io sono nella Juve però mi sta simpatico il Toro sì sì perché sono appunto non sono un tifoso evidentemente di quelli agguerriti quindi mi sta molto simpatico il Toro però sono della Juve perché mio padre era della Juve normalmente funziona così no tu di che squadra sei? Fiorentino da tre generazioni vedi ma di dove sei tu? cioè dove sei nato? ah no sì 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 di no Frosinone perché mio nonno l'ha fatto il militare all'epoca a Firenze si innamorò di Firenze di tutta Firenze compreso il calcio e ha trasmesso la malattia a mio padre che poi mio padre l'ha trasmessa giustamente a me e beh la Fiorentina e il Toro sono molto amici sì sì no perciò quando hai detto Juventino prima ti dispiace ho sofferto Guido per quanto riguarda il futuro adesso riprenderai la seconda parte diciamo prima del tour estiva farò un tour estivo abbastanza ricco perché saranno 25 date tutte in Italia tutte in Italia sì sì per adesso poi non si sa mai magari mi chiamano che ne so in Giappone sarebbe molto bello e farò questo tour con questo bravissimo pianista Matteo Castellane e fisarmonicista con cui stiamo provando in questi giorni per le date per questo nuovo spettacolo che è diverso in effetti da quello che ho fatto nella tranche prima e poi e poi e poi si vedrà farò un nuovo libro probabilmente ma adesso capito è uscito da tre mesi questo libro quindi non ho è un po' come se avessi cioè quando faccio un libro non riesco a pensare a un altro libro c'è gente che lo fa c'è gente che lo fa c'è gente che scrive due libri contemporaneamente ho gente che legge due libri cosa che non sono mai riuscito due libri contemporaneamente non ci sono mai riuscito quindi diciamo che almeno fino a dicembre voglio anche perché sai i libri di poesia sono questione delicata bisogna portare un po' come un bambino che devi portare secondo me più a lungo di un romanzo almeno per me è sempre stato così quindi nei prossimi mesi ho intenzione di continuare a portare in giro quest'ultimo libro di poesia Guido io ti ringrazio tantissimo per la disponibilità e per il tempo grazie a te grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti